Vogliamo ringraziarvi perché tutti insieme stiamo crescendo. Iscriviti al canale, è gratuito. E se vuoi sostenerci, abbonati. La tua amicizia è preziosa per noi. Ciao a tutti amici, benvenuti. Benvenuti nuovamente all'interno della rassegna Il risveglio dell'anima che tengo per la libreria esoterica Cavour. Oggi facciamo un bel video. Partiamo da un paio di domande che alcuni di voi mi hanno posto. E come sempre queste domande racchiudono un po' gli interessi comuni di tutta questa community che si sta ampliando giorno dopo giorno. Le mail che mi mandate sono tante, le domande sono davvero tante. Cerco di prendere quelle che possono racchiudere un interesse comune. Però mi auguro che nel corso dei prossimi video riusciremo a rispondere al maggior numero di domande possibili. Ovviamente, come sempre, vi invito ad ascoltare questi video con estrema accoglienza, con estrema giocosità. Cercate di... Anzi, se avete un foglio bianco... Anzi, prendete un foglio bianco e una penna. Prendete un foglio bianco e una penna. Aspetto. Due, tre secondi. Prendete un foglio bianco e una penna. È importante. Se l'avete sotto mano? Adesso scrivete. Non devo prendere appunti. Primo punto. Secondo punto. Devo ascoltare senza aspettative. Secondo punto. Tre. Mi spoglio nudo. Di tutto ciò che credo di sapere... Facciamo così. Di tutto ciò che sapete, perché se no magari vi offendete subito se dico credete di sapere... E' bellissimo. E' bellissimo fare questi video e per la prima parte del video, diciamo, tergiversare, giocare un po', aspettare. Sapete perché? Perché dopo un minuto, un minuto e mezzo, coloro che non riescono a reggere il non contenuto intellettuale vanno via. Ed è un bene, è un bene fondamentalmente che se ne vanno, perché così evito di fargli perdere tempo. Così non perdono tempo loro, di cercare di capire quello che gli dirò. E siamo tutti più contenti. Eh? Quindi avete preso questo foglio di carta, avete scritto... Ascolto senza aspettativa. Essere nudi. Non devo prendere appunti, eh? Tenetelo sempre sotto mano. Quando ci sono questi video, non dovete prendere appunti. Dovete essere nudi. Anche a livello fisico, se volete. Non c'è mica nessun problema, eh? Fate come volete. Eh? È più importante il corpo o il vestito? Eh? Spogliatevi. Che bello. Oggi tocchiamo a tanti argomenti, secondo me. Ovviamente questi video sono degli impulsi. Cercare di prenderli quindi con estrema giocosità. E iniziamo, iniziamo, iniziamo. Iniziamo. Allora, ho preso due domande, tra le tante. E una della meravigliosa Giulia. Giulia che mi scrive spesso. E Giulia mi chiede. Bellissimo. Allora, ho la pelle docca a leggere questa domanda. Che bello, eh? Ciao, Fede. Ti seguo sempre. Con tanto entusiasmo. Ma è bello. Basterebbe solo... Ma il video è finito. Finito. Con tanto entusiasmo è finito tutto. Eh? È l'entusiasmo. È l'entusiasmo che ci lega. È l'entusiasmo. È l'entusiasmo che attraverso di me passa e cerca di raggiungere voi. E cerca di raggiungere quella parte di voi che ascolta questi video. Senza interferenze. Il motivo del perché seguite questi video e mi seguite è questo entusiasmo. Ciao, Fede. Ti seguo sempre con tanto entusiasmo. Guardate che... Guarda quante parenti si apro. tutto ciò che io dico è importante. Non è buttato lì. È un rapporto sentimentale. È un rapporto sentimentale. Sono dei rapporti... Sono dei rapporti d'amore. Sono dei rapporti amorosi questi video. Eh? Se non facciamo l'amore non c'è comprensione. Ciao, Fede. Ti seguo sempre con tanto entusiasmo. E grazie ai tuoi video ho riscoperto l'amore per il Maestro e per i Vangeli. Eh? Meravigli. C'è un passo che mi risuona dal quale però non ci capisco nulla. Eh? E il passo è il Vangelo ha i semplici il padre e il figlio. Potresti parlarne? Grazie. Poi prendo un'altra domanda di Luca che mi chiede Parleresti in un tuo prossimo video della gerarchia spirituale della fratellanza? Eh? Sono due cose che apparentemente sono... Sembrano che non... Sembrano non sentare niente. Tanto che un'altra... Un altro fiore che sta sbocciando che si chiama Giuliana che ci divertiamo tanto con i messaggini e le domande che lei mi fa e le risposte che io gli do. E' Giuliana che mi chiede ma ci sono dei riferimenti nel Vangelo della gerarchia spirituale? E io gli ho risposto ma chiedelo a lui? Chiedelo direttamente a lui? E poi gli ho fatto proprio riferimento a questo passo. A questo passo che mi chiede Giulia. Adesso lo leggiamo, eh? Lo leggeremo all'inizio e poi lo leggeremo alla fine. Faremo un piccolo viaggio. Eh? Voglio vivere così col sole in fronte e felice canto beatamente. Pronti? Eh? Luca 10, 21 In quella stessa ora Gesù trassalì di gioia nello Spirito Santo e disse Ti ringrazio, oh Padre Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti. e l'hai rivelata ai piccoli, eh? Guardate è tutto il percorso che mi ha fatto io adesso in questo anno. Sì Padre perché così è piaciuto a te. Che meraviglia. Tutto mi è stato donato dal Padre mio e nessuno conosce chi è il figlio se non il padre né chi è il padre se non il figlio è colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Eh? Se non andiamo a leggere con una logica terrestre non ci capiamo assolutamente nulla. Il padre il figlio il figlio chi lo vuole dire lo sa solo lui agli altri non lo dico ad alcuni lo dico perché il padre lo conosco io voi non lo conoscete. Non ci capisce nulla con una logica terrestre però con un po' di innamoramento io sono convinto che già qualcuno di voi ha già intercettato ha già intercettato la relazione tra questo passo straordinario e meraviglioso e la domanda di Luca sulla gerarchia spirituale. Cerchiamo di vedere un po' di questi punti. Allora questo video si collega secondo me perfettamente al penultimo video quello sui maghi bianchi come sapete sono iniziati tra l'altro ieri sera e mercoledì sera il percorso intensivi sono state due belle serate di introduzione adesso ci portano avanti i quattro mesi questo lavoro intensivo quindi questo che vi dirò in questa prima parte è tutto il lavoro che si farà nel percorso intensivo però diciamo che delle pillole anche coloro che non fanno parte del percorso intensivo le hanno e possono lavorare. Ah tra l'altro un'altra cosa importante vi devo dire mi auguro che a breve riapriranno ci sarà la possibilità di fare i seminari dal vivo i seminari dal vivo quelli di Bologna Torino Catania Roma sono tutti confermati sono tutti confermati state pronti state pronti che non vedo l'ora di vedervi di tornare dal vivo a fondersi gli uni gli altri le date ve le comunicherò quanto prima mi auguro e spero e sembra che sia così intorno aprile maggio e giugno mi auguro che avremo questa possibilità quindi state pronti sono tutti confermati non vedo l'ora oltretutto di girare l'Italia e conoscervi di persona di persona di persona va bene allora nel video i maghi bianchi abbiamo visto come un aspirante mago bianco e tutti coloro che stanno facendo un lavoro su di sé mi stanno seguendo nel percorso che io propongo l'obiettivo dei numeri 4 di uno stato un po' più avanzato se vogliamo è quello di farsi canali il figlio che si fa canale tra il padre e la madre perché attraverso il figlio avvengono i cambiamenti i propositi del padre che vivono su un piano spirituale lo vedremo oggi non potrebbero essere manifestati nella dimensione del pianeta terra anche per gli uno due e tre e anche per gli umili quattro anche per gli umili quattro per tutti quanti i propositi del padre non potrebbero essere manifestati non potrebbero scendere sulla terra se non ci fossimo noi se non ci fossero gli aspirati maghi bianchi se non ci fosse la gerarchia ognuno ha il suo ruolo ognuno ha il suo compito meraviglioso per lo stato di coscienza che ovviamente ha e fa parte di un meraviglioso puzzle una gerarchia meravigliosa e quando avviene quando avviene questo quando avviene questo noi siamo un'anima no? noi siamo un'anima scendiamo nel pianeta terra come sapete abbiamo visto diverse volte ci prendiamo del materiale fisico vabbè questo sarebbe il corpo fisico questo è il corpo emozionale e questo è il corpo mentale ok? cosa succede? per tutti questi milioni di anni in tantissimi adesso vogliono stanno cercando stiamo cercando di entrare nel nuovo mondo ma abbiamo visto insieme che non può non possiamo entrare nel nuovo mondo non possiamo farlo apparire questo nuovo mondo che è già qui è in mezzo a noi il regno dei cieli è già qui in mezzo a noi solo che noi non riusciamo a farlo comparire non riusciamo a dissolvere il sortilegio del sistema del signore oscuro e quindi dobbiamo far sì che un determinato numero di persone si trasformino in maghi bianchi ed escano all'interno del proprio sistema oscuro all'interno del vecchio mondo entrano all'interno del nuovo mondo dentro di loro e la somma è un numero specifico di persone definirà il nuovo mondo a livello oggettivo quando si raggiungerà il numero di massa critica ed è proprio questo il compito è la fratellanza i maestri i maestri di saggezza quelli che vegliono sull'evoluzione dell'umanità i nostri fratelli maggiori stanno facendo di tutto per far sì che ci rendiamo disponibili che ci rendiamo disponibili al servizio e ci rendiamo utili a questo cambiamento è per far sì che attraverso di noi si edifichi il nuovo mondo dove l'inghippo che tantissimi anche ricercatori di buona volontà sono chiusi in una trappola che è quella di cercare di cambiare il mondo vecchio cambiamo tutto ciò che nel mondo vecchio non ci piace pensando che questo atteggiamento edificherà un nuovo mondo non c'è nulla di più illusorio e ve lo faccio vedere adesso in questi milioni di anni il genere umano è stato identificato totalmente con ovviamente l'evoluzione media dell'essere umano con il suo piano il piano astrale con il piano dei desideri e siccome l'atto magico questo l'abbiamo visto nel webinar tutto è magia l'abbiamo visto ognuno si crea la propria realtà attraverso continui atti di volontà atti di amore e atti di intelligenza atti di volontà atti di amore e atti di intelligenza mi dice qualcosa? solo che cosa succede? che generalmente l'uomo è ciò che i desideri fanno di lui quindi la realtà che la maggioranza delle persone in questo mondo ha creato e di conseguenza ha creato una realtà collettiva è figlia dei loro desideri egoistici e separativi non sono figli di atti di volontà puri figli dell'impulso animico figlio del soffio non ne abbiamo non ne abbiamo avuto la capacità siamo dovuti passare da questo periodo ed è stato estremamente importante per noi passare da questo periodo l'identificazione prima con il piano fisico l'identificazione con il piano astrale e adesso lo vedremo siamo sempre più identificati la nostra coscienza si è elevata al piano mentale e non so se lo sapete intanto devo vedere il timer il più sottile domina il più denso il corpo il corpo astrale il corpo dei desideri domina e influenza il nostro corpo fisico il nostro corpo mentale può dominare e influenzare il nostro corpo astrale l'anima ed è il lavoro che dobbiamo fare può dominare il proprio mentale di conseguenza l'astrale e di conseguenza crearsi la propria realtà nel piano fisico ma cosa succede? noi in questi milioni di anni abbiamo creato un movimento non dall'alto verso il basso i desideri egoistici i desideri separativi hanno stimolato pensieri analoghi che hanno creato che hanno creato tutta una serie di forme pensiero hanno creato tutta una serie di forme pensiero e ognuno di noi ne ha tante e si chiama legione l'abbiamo visto forme pensiero di rabbia di di possesso di potere di paura modelli di comportamento mi devo comportare così in quella compagina affinché io possa ottenere i miei risultati se mi comporterò in quel modo con quella ragazza potrò ottenere e conquistarla se mi comporterò così a scuola potrò ottenere i favori degli insegnanti se mi comporto così all'ospedale probabilmente riuscirò ad essere accettato se mi comporto così al bar probabilmente i miei amici mi apprezzeranno e mi accetteranno dentro la compagnia e abbiamo visto che costruire queste continue maschere lo fanno tutti ed è del tutto normale e funziona e quindi abbiamo dato vita ai centomila di pirandello ma sono tutte tutte micro realtà sono tutte forme pensiero che ci gravitano intorno sono tutte una muraglia di entità una muraglia di filtri che ci fanno vedere il mondo fuori attraverso questi occhi attraverso le forme pensiero stesso noi guardiamo il mondo fuori e abbiamo creato il nostro mondo che si rispecchia perfettamente ecco perché il mondo fuori è in perfetta risonanza con il nostro livello di coscienza per questo motivo noi guardiamo ciò che loro ci fanno vedere ciò che legione ci mostra ciò che legione dove legione vibra dove legione si sente a casa solo che fino ad oggi e questo è il lavoro che dobbiamo fare abbiamo creduto che legione eravamo noi però adesso piano piano ci stiamo staccando quindi non possiamo cambiare un mondo fuori con lo stesso atteggiamento rabbioso egoistico e ribelle che parte dal mondo astrale non è possibile noi dobbiamo tendere a un mondo nuovo noi dobbiamo tendere a un mondo nuovo dobbiamo tendere all'imprevedibile al meraviglioso al non conosciuto dobbiamo aprirci e farci canale affinché paraclito e ve ne parlerò in un prossimo video lo spirito santo scenda l'intuizione scenda attraverso di noi un'idea nuova e affinché noi possiamo essere canale di un nuovo cambiamento ma senza pensare a quello che non va bene del mondo vecchio il mondo vecchio sarà un ovvio il disgregamento il cambiamento del vecchio mondo la distruzione di certi aspetti del vecchio mondo sarà un'ovvia conseguenza dell'apparire del nuovo mondo vedete come cambia sembra simile le cose è perché noi conosciamo solo che per cambiare un qualcosa dobbiamo abbandonare o distruggere un qualcosa di vecchio cambiare un qualcosa di vecchio no ci sono delle fiabe che raccontano perfettamente come si esce dal sistema come si esce dalla trappola ci sono queste la regina cattiva che ha poteri magici poteri che il popolo non ha e quindi li tiene tutti sotto scacco per paura però tutti quanti i popoli sono arrabbiati si vogliono ribellare si ribellano e poi vengono puniti dalla regina cattiva che rappresenta il sistema fino a un bel giorno che il popolo comprende come si cambia come si edifica un nuovo mondo non guardando più la regina voltandogli le spalle e puntando in alto puntando nel non conosciuto ed è per quello che bisogna uscire dal ping pong orizzontale dal raziocinio ma io penso che ma io credo di dover fare questo io per evolvere credo di dover fare no perché io ho letto questo libro e questo libro c'è scritto e secondo me questo ha ragione no ma in realtà quello che parla su youtube dice le cose giuste però secondo me io preferisco questo in realtà io ho sperimentato un anno fa che con la tecnica funziona certo tutto perfetto ma dove la novità dobbiamo essere nuovi ogni giorno e c'è tutto un lavoro da fare e c'è tutto un lavoro di pulizia ovviamente nel percorso intensivo si vede passo passo questo oggi oggi ve lo oggi ve lo metto come impulso come ennesimo impulso però sono tutte sono tutte parole che se vi date la possibilità vi penetrano e fecondano figliano e nel momento opportuno germogliano eh fidatevi fidatevi e quindi è questo il lavoro da fare farsi canale fare pulizia far sì che l'anima crei una disciplina nel proprio corpo mentale trasformi le emozioni inferiori in emozioni superiori nel corpo emozionale e con una vita salutare e di conseguenza la vita fisica sarà una conseguenza delle necessità di un corpo mentale disciplinato di un corpo emozionale superiore avremo saremo entrati nel nuovo mondo e creeremo magia nel nuovo mondo e saremo stati i protagonisti della creazione di questo nuovo mondo non dobbiamo però cadere nel tranello e per edificare un nuovo mondo dobbiamo concentrare le nostre energie nel cercare di cambiare distruggere quello vecchio perché stiamo facendo il gioco dell'ombra gli stiamo dando l'energia quando noi poniamo la nostra attenzione l'energia va lì quindi se noi poniamo l'attenzione nel cambiare un qualcosa di vecchio in realtà stiamo alimentando qualcosa di vecchio e quindi bisogna farsi canali bisogna farsi puliti bisogna farsi puri solo che è difficile perché non conosciamo un'altra maniera che un atteggiamento logico terrestre qualcosa di nuovo devo cambiare qualcosa di vecchio è un'equazione matematica che è dentro il nostro inconscio programmato nelle nostre cellule ma è falsa e adesso noi la possiamo cambiare e dobbiamo sentirci eccitati come colui che non sa dobbiamo immaginare di preparare un test d'esame senza studiare nulla eliminare le resistenze di quella parte di noi che ci sussurra se hanno studi ti bocceranno hai perso 15 anni di studio che figura farai davanti ai professori i tuoi genitori i tuoi amici cosa diranno di te quando non saprai cosa dire quando non porterai i contenuti quando non avrai studiato per il tuo esame i giorni passano i giorni passano si avvicina il giorno dell'esame e tu resisti e non studi accetti non studi non ti prepari non ti preoccupi perché in quel momento ti sarà dato in quel momento ti sarà detto cercate di comprendere l'atteggiamento cercate di comprendere l'eccitazione l'eccitamento che sale la vita la vita è estasi la vita è eccitamento eccitazione se non siete eccitati non c'è comprensione fino ad arrivare il giorno prima e non avrai studiato nulla i brividi il brivido felino e arrivare davanti al professore che ci dice prego signor Cimaroli ci dica che contenuti porta per test esame nulla nulla non so nulla wow wow non so nulla ma lo sentite non so nulla non so nulla non so nulla certo ti guardano tutti come un pazzo ma in realtà sei un folle stay foolish è così che si cambia il mondo questi sono tutti impulsi non cercate di razionalizzare o di commentare nel mio intrigoparo cercate di ascoltarmi senza commentare quello che io dico se quello che io dico a me è facile no a me è giusto no questa cosa l'aveva accetta l'altra volta sì però quello che lui dice non è semplice non commentate osservatevi è già lavoro seguitemi guardate guardate che giro guardate che giro che stiamo facendo per arrivare al dunque per rispondere a queste due meravigliose domande e quindi e quindi come avviene allora il cambiamento come avviene il cambiamento così tocchiamo anche la tematica della gerarchia spirituale alcuni assaggi come avviene il cambiamento se non dobbiamo preoccuparci se non dobbiamo affidarci della logica terrestre se dobbiamo entrare in una logica spirituale in una logica di accoglienza in una logica di attesa in una logica di essere nudi spogli di essere eccitati di non sapere nulla e di accogliere paraclito la fiammella a noi riservata perché è questo che dobbiamo fare ovviamente non lo possono fare i numeri 1 2 3 ai primi livelli del numero 4 però voi che siete qui probabilmente dovete tendere a questo lavoro bussa ti sarà aperto chiediti ti sarà dato ma è lì è in questi regni sottili che bisogna entrare per riuscire a cambiare il mondo dobbiamo cambiare l'ordine delle cose non possiamo fare le solite cose pensando di cambiare il mondo e con quelle solite cose che abbiamo generato il mondo vecchio del quale vogliamo uscire è una logica chiara e poi adesso è arrivato il drago e adesso è arrivato il drago e il drago lo sconfigge la principessa e il mago i maghi e le principesse sconfiggono i draghi e guardate bene che non sto scherzando se il sistema ha calato un asso così questo è sempre stato questo è tosto non è quello di prima questo che c'è adesso è tosto non è quello di prima e se il sistema ha messo davanti uno così vuol dire che vuol dire che ha paura vuol dire che stiamo facendo vuol dire che ce la possiamo fare vuol dire che ce la faremo però dobbiamo lavorare non dobbiamo dar per scontato non dobbiamo aspettare che lo fanno gli altri perché adesso se è stato difficile a questo momento secondo me i prossimi anni saranno un pellino più tosti per essere dolce questo è tosto questo è un drago occorre diventare principessa e maghi per sconfiggerlo ecco ma non è eccitante questa cosa non è eccitante ci sono mille fiabili tra le principesse e maghi ma voi pensate che non sia la realtà quella si sta manifestando anche adesso ce lo sta facendo vedere gli stessi nomi prima c'era un conte adesso è arrivato un drago e noi dobbiamo trasformarci in dei maghi ma vedete lo vedete ma lo vedete che meraviglia io finirò il video qui andiamo avanti come avviene il cambiamento come avviene il cambiamento come avviene il cambiamento come avviene il cambiamento dove è penna dello rosso è qua allora come avviene il cambiamento quindi se noi dobbiamo farci nudi dobbiamo farci spogli scevri di ogni logica terrestre dobbiamo stare in attesa in attesa però di che cosa adesso lo vediamo tutto quello che precipita nel mondo fisico nasce dai mondi spirituali ok tutti i grandi cambiamenti tutte le grandi opere nascono prima come intento come archetipo nel mondo delle idee i propositi del padre i propositi del padre i propositi di dio e mi raccomando non confondete questa cosa non è cioè questa è la nube carica di cose conoscibili come la chiamava Patanjei oppure il mondo delle idee di Platone e qui il padre riversa i suoi propositi riversa però delle formule dovete immaginare che sono delle formule sono degli archetipi sono dei potenziali ma ancora inespressi ancora da sviscerare ancora da srotolare sono delle formule matematiche e in questo piano ci sono i guardiani che sono delle entità spirituali sono i guardiani delle formule intelligentissimi di un'intelligenza cosmica incomprensibile per noi oggi le vedete? quindi se qui ci sono tutti i potenziali qui c'è il potenziale cambiamento qui c'è la fratellanza scientifica qui ci sono qui c'è tutto qui c'è il segreto del nuovo mondo tutto ciò che deve essere fatto per far sì che venga manifestato il regno dei cieli sulla terra allora come facciamo? come facciamo? bisogna che ci siano degli esseri talmente evoluti che possano entrare in contatto possano entrare dentro questa lube prendere queste formule e e srotolarle degli architetti cosa fanno gli architetti? quando gli commissionano di fare un ponte l'architetto calcola tutti i vari pesi misure altezze eccetera e traduce il ponte aiutatemi se sbaglio in due per pi greco perta parentesi radice tre qua in una formula matematica eccoti il ponte sindaco eccoti il tuo ponte la formula matematica ma la formula matematica solo l'architetto vede che in quella formula matematica c'è un ponte e quindi chi sono gli architetti che riescono a prendere queste formule e tradurle in esperienze sono i maestri di saggezza sono i maestri di saggezza per il nostro linguaggio della scala del risveglio chi sono i maestri di saggezza Gesù il Buddha il maestro Moria il maestro Moria il Timetano chi sono i maestri di saggezza sono i numeri 7 loro possono accedere prendono queste formule e le srotolano e allora adesso vi racconto un fatto un fatto un fatto storico pare che nel 1400 quindi 4 secoli fa 4-5 secoli fa i maestri di saggezza coloro che sono addetti all'evoluzione dell'umanità sono i nostri fratelli maggiori abbiano organizzato in detto un conclave preoccupati della condizione del genere umano perché in arrivo eri in arrivo vedevano in arrivo l'età dell'acquario quindi grande opportunità finalmente la fratellanza semplicemente da una questione teorica e da buone intenzioni poteva potrà trasformarsi in una fratellanza scientifica una fratellanza di fatto io ti vedo che sei mio fratello io ti vedo vi ricordate io ti vedo l'attore che vede l'attore all'interno degli altri personaggi però io per vedere l'attore dentro l'altro personaggio devo essere identificato con l'attore che sta recitando la mia parte mi state comprendendo mi seguite non sono difficili queste cose però cosa hanno visto cosa hanno visto i maestri cosa hanno visto i maestri di saggezza hanno visto che l'arrivo è la grande opportunità dell'età dell'acquario ma ha visto anche un'umanità che non era assolutamente pronta ad entrarci non ci sarebbe entrata in quella condizione un'umanità che intorno al 1400 1500 era colma di separazione colma di pregiudizi e se non fossero intervenuti loro attraverso delle opere adesso ve le mostro ci sono alcune cose bellissime attraverso alcune trasformazioni alcune meravigliose opere la separazione il pregiudizio si avrebbe allontanato sempre di più saremmo diventati sempre più isolati sempre uno contro l'altro sempre di più sempre di più generazione e generazione non si sarebbe mai fermata come una spirale discendente sono dovuti intervenire per questo appunto per questo per intervenire su questa cosa e per eliminare questo profondo senso di separazione di pregiudizio nell'umanità e poi per elevare la coscienza e per elevare la coscienza sul piano mentale quindi trasformare gli esseri umani in uomini pensanti in uomini più intelligenti perché fino a quel momento eravamo identificati attualmente sul piano astrale sul piano dei desideri egoistici e separativi che hanno creato il mondo che vogliamo dissolvere che vogliamo cambiare quindi hanno dovuto lavorare su questi due aspetti e cosa hanno fatto hanno preso queste formule che il padre il proposito dove il padre dove il padre i propositi del padre sono hanno avuto hanno accesso hanno avuto accesso a queste hanno mamma mia hanno avuto hanno avuto hanno avuto hanno preso queste formule le hanno srotolate e poi hanno visto i cambiamenti hanno visto quello che andava fatto hanno visto le esperienze che dovevano essere manifestate sul pianeta Terra nei sette dipartimenti in cui noi affrontiamo la nostra quotidianità e ci esprimiamo nella nostra vita quali sono i sette dipartimenti dove avviene il cambiamento dell'essere umano e della coscienza umana dove è avvenuto il cambiamento nella storia e dove sono quei sette dipartimenti che saranno il cambiamento all'infinito i sette dipartimenti che conosciamo tutti i sette ambienti in cui noi ci muoviamo la cultura la politica la religione la scienza la filosofia la psicologia e la finanza i sette dipartimenti in cui l'essere umano si manifesta e quindi loro hanno detto dobbiamo creare dei gruppi dobbiamo creare dei maghi bianchi dobbiamo formare dei maghi bianchi dobbiamo aiutare dobbiamo aiutare i nostri fratellini attraverso la creazione dei gruppi di quelle anime più evolute di coloro che si possono fare canale di coloro che sono pronti ad essere maghi bianchi non possiamo scendere sempre in prima persona dobbiamo iniziare a lavorare da dietro le quinte proiettando sulle menti inviando intuizioni a coloro che sono pronti ad accoglierle e trasformarle in opere d'arte in musiche e allora a livello culturale cosa hanno fatto? il rinascimento Leonardo si sveglia una mattina ha avuto un'idea che idea? la cioconda che idea? che idea? Michelangelo il David la Cappella Sistina che idea? ma lo sentite questo sentimento? lo sentite questo sentimento? che idea? che idea? da dove viene quell'idea? è di Michelangelo? è di Leonardo? no! è del padre e attraverso i maestri di saggezza è stata proiettata per far sì che questa intuizione possa essere risa manifesta per il mondo per tutti i numeri 4 e per tutti i 3 per i numeri 2 e per i numeri 1 perché la cioconda perché le 7 opere di misericordia di Caravaggio sono viste da tutti anche se vanno lì ci fanno un selfie e non comprendono semplicemente perché la loro anima è attratta dal padre che li sta nutriendo attraverso quelle opere quell'arte oggettiva che è passata da questi pennelli Leonardo Caravaggio Michelangelo Botticelli sono pennelli nelle mani del padre attraverso cui la vita del padre scorre ed è in un certo senso viva all'interno di quelle opere e quindi tutti noi siamo attratti e quelle opere hanno un grande valore le opere di Modigliani di Picasso hanno un grande valore di Van Gogh i maghi bianchi la stragrande maggioranza di questi sono folli vivono in uno stato di beatitudine in contatto con lo spirito santo di Paraclito che li avvolge nel momento dell'atto creativo e poi escono dagli esi distruggono perché non riescono a reggere quella frequenza liberatoria tutta quella luce li distruggerebbe da dentro e quindi devono abbassare la frequenza vibratoria con droghe alcol eccetera eccetera cose che conosciamo distruggendosi la loro vita distruggendosi la loro personalità distruggendosi i loro involucri ma tutto ciò che loro hanno donato l'hanno donato e vive in eterno e poi i poeti inglesi Wyatt Spencer Shakespeare vedete per elevare la cultura per elevare per elevare per elevare la cultura per elevare la coscienza dell'umanità sul piano mentale e per eliminare progressivamente il senso di separazione di pregiudizio hanno i maestri di sazietà sono intervenuti nell'ambito della cultura in questi modi con i poeti inglesi oppure con i musicisti tedeschi Wagner Bach Beethoven l'inno alla gioia Beethoven si sveglia la mattina ma chi gliel'ha data? ma dove l'ha presa? ma non penserete mica che sia sua? non penserete mica che l'ha inventata lui? gli è stata data gli è stata presentata lui l'ha interpretata lui l'interprete lui è il mago bianco lui è colui che porta in manifestazione e dona al mondo dona alla madre i propositi del padre ma non vi sconquassa questa cosa non vi sconquassa questa cosa da qualche parte l'ha presa da qualche parte l'avrò avuta questa idea perché a me non mi viene vedete che il regalo essere canali e sono arrivano regali non c'è niente non c'è niente da pretendere non c'è niente da aspettarsi non c'è niente da cambiare bisogna attendere accogliere vabbè dopo voi mi farete le solite domande allora come devo reagire ho già parlato in questi video e ne faremo degli altri intanto oggi voglio parlarvi di questo e poi a livello politico questo senso di ribellione che abbiamo questo senso che ci ribolle adesso chi più chi meno sì magari siamo molto rivoltosi e molto ribelli su facebook poi sulle piazze un po' meno però questo senso di rivolta questo senso di ribellione da dove proviene cosa hanno fatto i maestri di saggezza in un determinato periodo in una determinata nazione hanno detto tu Robespierre Marat Danton ideali di fratellanza stop i ceti sociali stop stop alle classi stop ai poveri vi ricordate la famosa frase ma regina il popolo ha fame non ha il pane dategli delle brioche eh egalité fraternité adesso non mi ricordo non mi ricordo l'altra vedete ma da dove viene da dove viene la rivoluzione francese noi siamo figli della rivoluzione francese la nostra società è figlia della rivoluzione francese certo tutti coloro che sono voluti dopo hanno un po' deluso come sempre avviene perché comunque facciamo parte all'interno di un sistema oscuro che cerca di bloccare trasformare confondere le idee oscurare l'anelito dei maghi bianchi nascondere il loro operato metterlo sotto un'altra chiave confondere le idee al popolo vedete vedete noi siamo ancora figli e nel nostro sangue ribolle questo sentimento e non ci sono più le classi le classi sociali queste grandi differenze queste monarchie assolute i poveracci sono dei passi progressivi a livello filosofico a livello filosofico i filosofi tedeschi Leibniz Kant Hegel Schopenhauer Nietzsche l'Ubermanisch l'oltreuomo di Nietzsche da dove viene la Nietzsche è un regalo è un regalo dall'alto gli hanno detto toh toh gli hanno proiettato la mattina si sveglia che idea che idea che idea che idea l'oltreuomo gli ubermanisch adesso distruggo gli ultimi mille anni della filosofia occidentale distruggo tutta quella quella metafisica apollinea che puzza di raccontarsela la distruggo tutta entriamo nel pratico Nietzsche si è fatto canale si è fatto canale e noi siamo i figli di tutti questi di tutti questi espedenti di tutti questi avvenimenti di tutti questi avvenimenti di tutti di tutte queste opere di questi maghi vedete quindi come avviene il cambiamento e così a livello quindi culturale politico religioso anche se non sembra finanziario anche se non sembra psicologico filosofico ne abbiamo parlato adesso e chissà quanti ancora potete anche divertirvi a fare dei nomi di coloro che sono stati maghi bianchi a servizio a servizio della gerarchia spirituale ecco come avviene il cambiamento e adesso tocca fare la stessa cosa siamo in pochi paraclito ha bisogno lo spirito ha bisogno di introdursi ha bisogno di incanalarsi in un determinato numero di maghi per manifestare la volontà del padre ma se questo non avviene in maniera fluida avviene in maniera forzata e quando avviene in maniera forzata avvengono le catastrofi se noi ci facciamo canale se noi lavoriamo sul se noi trasformiamo il nostro mondo e diventiamo noi stessi canale e ci predisponiamo a entrare nel nuovo mondo ad essere disponibili e servi di questo nuovo mondo potrà scendere attraverso di noi il nuovo mondo si potrà manifestare senza pensare di distruggere quell'altro l'altro sarà un'ovvia conseguenza che si dissolve e cambierà spariranno nel momento che non gli daremo più l'attenzione e l'energia se un determinato numero di persone si farà canale in questo modo apparirà il nuovo mondo ma non c'è un numero di sufficienti in questo momento e questa è l'urgenza e questa è l'urgenza che in tanti stiamo cercando di comunicare ognuno a proprio modo ma se dite questa urgenza non volete essere voi il cambiamento e dire c'ero anche io quella volta lì c'ero anche io sentirvi un Leonardo un Beethoven un Wagner un Bach uno Schopenhauer del cambiamento dell'ingresso del nuovo mondo dell'uomo acquariano della fratellanza scientifica vi volete perdere questa possibilità adesso adesso andiamo adesso andiamo a rileggere il passo che ci ha chiesto ci ha chiesto Giulia e guardate se è così Giuliana rispondo anche a te guardate se nel Vangelo non si parla di gerarchia spirituale ascoltate bene ti ringrazio oh padre signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli farsi piccoli farsi canale il mago bianco sì padre perché così a te è piaciuto ma non vedete ma qui non c'è niente da capire qui c'è da qui c'è da c'è da piangere qui c'è da da essere eccitati wow wow allora lì sì lì sì che avete toccato lì sì che state entrando lì sì quando c'è wow lì lì state toccando lì state lì lì quello lì 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 di quella presenza lì quella è la presenza e di paraclito paraclito da dove viene questo termine paraclito lo spirito santo e sentite tutto mi è stato donato dal padre mio tutto mi è stato donato dal padre mio e nessuno conosce chi è il figlio se non il padre nessuno conosce chi è il figlio se non il padre il padre sa chi saranno coloro che possono accedere alle formule ai suoi propositi né chi è il padre se non il figlio loro sono in contatto diretto lo sguardo rivolto al cielo sono in contatto diretto con i propositi del padre loro lo conoscono benissimo né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare e colui al quale il figlio del padre lo vuole rivelare il figlio sa a chi lo vuole rivelare per manifestare questo proposito eh Giulia è più chiaro ora eh ci sarebbe da parlare le ore però questi sono aspetti bellissimi sono delle chicche eh e la vogliamo vedere in un altro modo la vogliamo vedere in un altro modo la vogliamo vedere in un altro modo ci siete vi piace questa cosa ascoltatemi che anche anche su questo mi chiedete tantissimo mi chiedete tantissimo su questa preghiera la più potente che vive nell'atmosfera padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà siano fatti i tuoi propositi come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano dacci oggi la possibilità di essere connessi con lo spirito santo con paraclito e questo è tutto il lavoro che noi dobbiamo fare basta attenzione a distruggere qualcosa di vecchio il drago si sconfigge girandosi e guardando in alto e guardando in alto senza aspettative eh ho toccato diversi punti tanti punti sono contento eh ce la facciamo ci vediamo nel prossimo video ciao ciao